Android Auto. Sono passati circa due anni dall'ultima volta che ho parlato di Android Auto qui sul canale e in quell'occasione mi ero lamentato molto della mia esperienza con Android Auto, appunto dei bug, dei malfunzionamenti, delle storture, mettiamola così, ma in questi ultimi due anni effettivamente un po' di cose sono cambiate. È arrivata la nuova interfaccia CoolWalk che comunque è una ventata di aria fresca per quanto non completamente rivoluzionaria o quantomeno per quanto non mai vista prima. E poi c'è da dire che grazie ad accessori quali AA Wireless o il recente MA1 di Motorola è diventato davvero molto semplice per un grande numero di utenti avere Android Auto Wireless sul proprio veicolo e poterlo utilizzare in maniera wireless è una di quelle cose che cambiano effettivamente l'approccio all'infotainment di Google e che lo rende effettivamente, come dire, più comodo, più fruibile, più godibile in generale perché eliminate la scomodità di dover sempre collegare il telefono o l'avete subito pronto anche se il vostro smartphone fosse magari sul sedile posteriore in uno zaino o in una borsa. Insomma, quello che voglio dire è che al giorno d'oggi non è che Android Auto abbia risolto tutti i suoi bug, anche perché l'esperienza d'uso è davvero molto eterogenea. Dipende dal veicolo, dipende dal telefono che state utilizzando in quel momento, dipende dalla versione di Android Auto, se avete o meno la beta per esempio. Insomma, ci sono tanti fattori che rendono l'esperienza davvero molto diversa tra un utente e l'altro e non mancano i bug come abbiamo visto di recente, per esempio ce n'era uno che rendeva l'interfaccia a bassa risoluzione chissà per quale ragione. Quello che voglio dire è che nel 2023, comunque sia in generale, al netto di possibili problemi, Android Auto fa abbastanza bene tutto quello che deve fare, tranne secondo me un particolare abbastanza importante che è la messaggistica. Allora, non so voi, ma io sostanzialmente utilizzo Android Auto per tre cose, navigazione, musica e messaggistica. Navigazione e musica tendenzialmente funzionano, ci sono varie opzioni sia di navigatori che di applicazioni musicali, dipende anche dai gusti personali o da quali abbonamenti avete stipulato, ma a linea di massima non ci sono problemi al netto, ripeto, di possibili bug isolati. Ma per quanto riguarda la messaggistica è proprio secondo me un po' sbagliata l'implementazione in generale. Allora, anzitutto non c'è un'interfaccia di messaggistica su Android Auto, cioè non potete accedere alle vostre chat sullo schermo del veicolo. Questo vale per WhatsApp, che proprio non è presente come applicazione, vale per Telegram, che se la avviate semplicemente vi permette di scegliere dei file audio che aveste eventualmente ricevuto da riprodurre, ma non potete comunque in alcun modo accedere all'enenco delle vostre chat, visualizzare gruppi e quindi anche eventuali immagini o altro che aveste ricevuto, non c'è verso proprio di averle a disposizione. Non potete in poche parole selezionare un contatto, tapparci sopra e inviare messaggi, contatti, gruppi, eccetera. C'è un modo per ovviare in parte a questa cosa che è quello di passare per l'assistente, che poi è lo stesso assistente che avete anche sul vostro smartphone, con gli stessi limiti che avete anche sul vostro smartphone, ovvero non potete per esempio inviare messaggi su Telegram, se ci provate e lui vi dice semplicemente che Telegram non è supportato. Potete inviare per esempio sms o whatsapp, ma solo ad un contatto singolo, non ad un gruppo. E anche lì nuova limitazione e tutta la procedura di invio può diventare un pelino macchinosa, perché a volte l'assistente è un pochino macchinoso. Facciamo proprio un esempio in diretta. Manda un messaggio a Emanuele. Sto pensando... Ok, qual è il messaggio? Mi ha subito chiesto di mandarlo su whatsapp, perché in precedenza avevo mandato un messaggio su whatsapp, ma se così non fosse stato mi avrebbe proposto lui un'alternativa tra sms e whatsapp dovevate scegliere, poi nel caso che ci siano più numeri di telefono dovete scegliere quale numero di telefono inviare il messaggio, poi lo dovete dettare, poi lo dovete confermare, insomma ci sono vari step e vi assicuro che in tutti questi step qualcosina può andare storto, magari non capisce bene una parola o magari dovete correggerla e allora ritornare indietro, insomma è un pelino macchinoso e in tutto ciò non c'è alcun tipo di interazione sullo schermo, è tutto vocale, il che rende appunto la cosa possibilmente ancora più legnosa. Ma va bene, diciamo che questo fatto avviene per un discorso di sicurezza, ci può stare, ok? Non sto dicendo che sarebbe sicuro avere tutte le chat sempre pronte a disposizione sullo schermo dell'auto, però potrebbe succedere come per esempio nelle applicazioni musicali, nelle quali se voi a un certo punto state interagendo troppo con lo schermo, lui dopo un po' ve la blocca e vi dice state fermi un attimino perché state appunto tappando un po' troppo. La stessa cosa potrebbe avvenire benissimo nelle app di messaggistica, avete l'elenco delle vostre chat, se non fate altro che passare da una all'altra lui dopo un po' vi blocca, ma se si tratta semplicemente di scegliere un contatto e poi di dettare un messaggio, beh, quello potrebbe essere un'opzione oppure potrebbe farvele consultare soltanto a veicolo fermo, insomma ci potrebbero essere delle soluzioni alternative per rendere fruibile lo storico dei vostri messaggi. Lasciamo perdere, occupiamoci solo della ricezione perché se vi arriva un messaggio, Android Auto ve lo legge. E qui ci sono due, secondo me, grossi problemi. Il primo è che comunque la lettura di questi messaggi avviene in maniera proprio precisa, cioè non c'è alcun filtro. Se vi arriva un messaggio da parte di un amico un po' sboccato che contiene parolacce, moccoli o che altro, lui ve li legge tranquillamente in barba a quali passeggeri poteste avere in auto in quel momento, magari anche dei bambini. Non c'è alcun tipo di filtro, insomma, sul linguaggio, sul testo stesso che compare. Tanto che, per esempio, vi sarà magari capitato anche a voi di ricevere un messaggio con un indirizzo internet e questo sostanzialmente è quello che succede. Insomma, un accrocchio spesso incomprensibile quando semplicemente Android Auto potrebbe darvi il titolo della pagina oppure semplicemente dirvi indirizzo internet e fine senza stare a leggere tutto l'URL e se ricevete una foto o un file audio, lui vi dice semplicemente che c'è una foto o che c'è un file audio, ma ok, nel caso della foto sarebbe magari bello poterla vedere sul display ma lasciamo perdere per motivi di sicurezza, ma almeno il file audio sarebbe riproducibile senza particolari problemi di sicurezza e invece nemmeno quello viene riprodotto. Quindi comunque anche l'esperienza in ricezione è abbastanza limitata e mi vrebbe da dire limitante. Ancora peggio poi se per caso fosse in azione la voce guida del vostro navigatore, perché in quel caso se per esempio Google Maps vi sta indicando una direzione da prendere e voi avevate già avviato l'interazione con l'assistente per rispondere a un messaggio, le due voci si sovrappongono, cioè non c'è una priorità. Quindi o non capite nulla o finisce che si rispondono praticamente da sole. Vi faccio proprio un esempio pratico. Scusa, non ho capito. Vuoi rispondere al messaggio? Sì. Tra 200 metri, svolta a destra e prendi via delle gore. Ecco il messaggio. Tra 200 metri, svolta a destra e prendi via delle gore. Vuoi inviare il messaggio o modificarlo? Cancellarlo. Scusa, svolta a destra e prendi via delle gore. Vuoi anche dire cancellalo. Cancellalo. Scusa, vuoi inviare o modificare il messaggio? Come avete visto, la voce guida di Google Maps è stata presa come input in ingresso per rispondere al messaggio e dopo, tra l'altro, nonostante io gli avessi detto cancellalo, come era stato lo stesso assistente a suggerirmi, lui non lo cancellava. Questo ha testimonianza anche di quello che vi dicevo prima, che l'interazione verbale può diventare abbastanza legnosa e a tratti frustrante. E quindi è assurdo anche in questo caso vedere come i due assistenti, in un certo senso, quello della navigazione e quello di Android Auto, si mescolassero. Tra l'altro, questo aprirebbe una piccola parentesi sul fatto che su Google Maps possiamo avere soltanto due opzioni vocali, cioè o silenzio o chiacchiera e dimmi anche ogni minima svolta, ogni minima rotonda, ogni minimo movimento della strada. C'è anche una terza opzione che è quella solo degli avvisi, che sostanzialmente è un bip bip quando c'è un autovelox o un cambio di direzione, se per esempio avete sbagliato a strada. Però insomma potrebbe essere carina anche una terza opzione, meno verbosa, in cui l'assistente alla guida vi dice soltanto le svolte maggiori, non se dovete continuare a andare a dritto, ma questo lasciamo perdere il corollario. Il discorso della messaggistica è che ancora una volta non ha una priorità rispetto agli altri contenuti, eventualmente in riproduzione come in questo caso quello del navigatore, e quindi può creare ulteriore confusione. Voi mi direte, la messaggistica alla guida non è una cosa fondamentale, e ok, è vero, rispetto alla navigazione, rispetto all'ascolto magari di musica non è fondamentale, ma pensate soprattutto ad un viaggio particolarmente lungo, magari ricevete un sms, un messaggio di lavoro al quale volete rispondere, e va a finire che non ci riuscite con il vostro veicolo, o che comunque Android Auto vi crea complicazioni piuttosto che semplificazioni. E a quel punto vi dovete fermare del tutto e magari prendere in mano il telefono per rispondere laddove invece sarebbe stato più semplice farlo alla guida, anche perché non è sempre detto che vi possiate fermare in ogni momento, anche se il messaggio ricevuto era urgente. Insomma, non la voglio fare troppo lunga, il succo è che al di là, lo ribadisco, di eventuali bug che sono ancora presenti, e lo so perché ce li segnalate spesso, ma sono anche appunto, come ho già sottolineato, eventi non dico singoli, ma comunque non riproducibili per forza da tutti gli utenti. Questo discorso della messaggistica invece è abbastanza generale, riguarda proprio il modo in cui è implementata all'interno di Android Auto, modo che a parer mio è ancora suscettibile di vari miglioramenti. Non abbiamo particolari indicazioni dalle varie beta che Google stia lavorando in tal senso, vedremo se poi qualcosa cambierà anche in futuro. Fatemi sapere voi anche nei commenti com'è la vostra esperienza con Android Auto, proprio alla luce del fatto che è abbastanza diversa tra i vari utenti e se magari avete delle particolari frustrazioni diverse da quelle che ho espresso io. Per tutto il resto ci sentiamo qua sotto nei commenti e anche sul sito, dove abbiamo pubblicato un articolo di corredo a questo video, vi lascio il link qua sotto, oltre a tutte le nostre guide su Android Auto che vi raccomando di consultare. Da parte mia come sempre un saluto e alla prossima!